Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Principe Channel Signori, oggi andremo a qualificarci per la Weekend League Perché questa che è appena passata, non l'ho terminata, non sono arrivata a 18 vittorie Mi sono fermata qui a 13-15 manco mi ricordo Ho avuto delle disconnessioni, ho perso alcune partite E comunque non ho avuto tempo per terminare questa Weekend League Quindi oggi andiamo a giocarci la qualifica Dobbiamo avere 7 giocatori della Serie A in campo e 7 giocatori in panchina Come ben vedete ho Papu Gomes, Boriello, il bomber, Kalinic, Naikolan, questo manco mi ricordo come Badel e Perisic, è una formazione un po' messa così a cauro Però speriamo di riuscire a qualificarci Iniziamo subito con il primo match Una squadra con buoni attaccanti C'è Insigne che è un grande attaccante Amsic, ottimo centrocampista, Naikolan, però poi c'ha i bronzini C'ha i bronzini in campo così messi là Vediamo un po' se li cambia tutti o no Iniziamo No, non cambia i bronzini No ragazzi Che cosa ho appena visto Che cosa ho appena visto Mamma mia che schifo Madre de Dios Madre de Dios Mamma mia il ninja Il ninja Kalinic Kalinic Uno pari Risponde così Kalinic Alla papera di Cesni Vamos Papu Papuuu Due a un e il Papu fa vedere il muscolo Vamos Papu come? Tu Non era manco buoni in ciocco Porca puttana Mamma mia Alaba Un mostro Grande Alaba Ancora Alaba Bello Perisic 3 a 1 Vamos Vamos A canar Si Vai bomber Questo è tuo Kiss kiss Bam bam Boviello 4 a 1 Bello Bello Gran gol Qua potevo tirare prima Ho voluto fare un passaggio Di troppo Infatti mi è andata bene Perché Ho rischiato di perdere il pallone 5 a 1 Saper finire il match Prima partita Terminata quasi Boriello Boriello se ne va Bomberone di Boriello 6 a 1 Game set match Dice così Primo match 6 a 1 Eccoci qui ragazzi Secondo match Un avversario A davanti Icardi Salah Felipe Anderson Biglia Chi è quello Il Caduri Poi Manolas Goulibaly Benatia Perez Art Comunque è una buona serie Iniziamo Grazie Grazie Sì 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 Bravissimo Quattro Pertisic Bellissima azione Pertisic La conclude 1 a 0 Dai dai Sta sotto pressione Ci sta a cadere in cazzo Questo Badella 2 a 0 Sul lavoro sporco Di Nainggolan Grande giocata Del ninja 2 a 0 Si chiude tutto Fate contro Dier Calli Nici Oh papu Sbagli l'intervento Papu 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 3 a 0 E vola Con un torero Sotto una coppa Di acquista E finisce qua L'avversario di acquista 3 a 0 Andiamo al terzo match Allenamento Quindi attenzione Ci può parlare tutto Ottima serie A Comunque Vediamo un po' Vediamo Intesa Vediamo come andrea Kalinic Che gol di Kalinic 1 a 0 Grande gol Ragazzi Kalinic Perisic Kalinic Perisic Da solo davanti al portiere Perisic 2 a 0 Pensavo fosse fuori gioco Invece Lapid con la fischiata 2 a 0 Grande gol Di Perisic Eh bel gol Sbaglio qua In fase difensiva 2 a 1 Marek Hamsik Boriello 3 a 1 E Boriello Ci falla 3 a 1 Finisce qui Il match 3 a 1 E siamo in finale Speriamo bene Così ci qualifichiamo Eccolo qua L'ultimo avversario La finale Ha un'ottima squadra Davanti a Insigne Gomuš Papu Gomes E Quadrato Haalan Gio Mario Banega Tonelli Eccetera Eccetera Vediamo Vediamo un po' Iniziamo Iniziamo il match Daaa Non posso prendere Sti con credibili Sergio Ramos Svallisci In un modo Scandaloso E prendo il gol Dell'1 a 0 2 a 0 Guarda Assurdo Senza intesa Non gira Non gira Vado subito 2 a 0 Sotto 2 a 0 dai 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 vamos 3 1 riapro il match e andiamo 3 a 2 dai 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 che la rimontamo dai che la rimontamo cazzo hai buraya? attraverso E andiamo tre pari Vaffanculo Non so come dire Sta paratutto 28 diri ho fatto Non riesco a segnare Taci sua Oh no raga è impossibile È impossibile segnare E andiamo 4 a 3 Vaffanculo va Come back Taci tua Oh raga ve lo giuro ha parato tutto Davanti alla porta mi ha parato tutto Per fortuna qualche tira è entrato Vamos Come back completato signori E vai Vinco Così il torneo E quindi mi sono qualificato Alla weekend league Spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Un saluto a tutti da principe Bella Chau Ciao a tutti Grazie a tutti.